Siete? Allora! Innanzitutto questo è un museo bellissimo. Questo è un museo bellissimo perché è un museo di questo secolo. È un museo del ventunesimo secolo, è un museo del 2000 che parla di 700 anni fa. Ma ci dà un'emozione grandissima. Cioè quando tu entri vedi che sono tutti i sensi che si muovono e quindi ti dà l'idea di un museo che, veramente, io credo che tutte le scuole d'Italia debbano venire a Ravenna per vedere questo museo. Non soltanto per riapprezzare Dante, ma per riapprezzare anche proprio la bellezza della parola che dà emozione. Empatia di Dante e noi nei confronti di Dante, ma anche di tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa idea, quasi la tocchi. Tocchi non soltanto l'opera, ma tocchi anche la storia. Per questo è molto, molto bello. Tante esule. In questo mondo che stiamo attraversando ci sentiamo tutti un pochino esuli. E però bisogna essere molto attenti su questo, perché l'esule deve trovare dall'altra parte anche una capacità di dire «Questo è il mondo nuovo». Uno dei principali compiti che affidiamo a questo museo è che tutti i giovani e le giovani di Ravenna, come i loro genitori, come i loro nonni, si rinnamorino di Dante, attraversandolo, vivendolo, diciamo, passeggiando al suo interno, soffermandosi ad ascoltare, diciamo, qualche verso. E che questo, ripeto, sia quindi un contributo per i giovani ravennati e per i tanti giovani che da tutto il mondo e da tutta Italia vengono qui a Ravenna, diciamo, a portare un tributo alla tomba di Dante per poter arricchire e, diciamo, ampliare la loro offerta e il loro percorso nella nostra comunità.